Per finire la puntata parliamo di moto con BMW Motorrad Italia e la presenza in modo ufficiale nel campionato di Superbike e di Superstop. Vediamo. Siamo molto orgogliosi di poter finalmente annunciare i nostri programmi sportivi per il 2011. BMW Motorrad Italia infatti sarà impegnata nel 2011 sia nel campionato Superbike con due piloti che nel campionato Superstop. I due piloti del mondiale Superbike sono noti, abbiamo James Toseland che non ha certo bisogno di nessuna presentazione, avendo una lunga esperienza e avendo già vinto addirittura due titoli mondiali in questa categoria. Abbiamo poi la bellissima e meritatissima promozione di Ayrton Badovini dopo l'eccellente campionato che ha fatto il Superstock dominandolo letteralmente, questa sua promozione nel mondiale Superbike dove siamo sicuri che sarà un grande ritorno quello di Ayrton. Ciao a tutti, mi chiamo James Toseland, prima volta per me con BMW il prossimo anno in Superbike c'è il campione. Fortunatamente BMW esce a darmi questa grande possibilità ed è arrivata questa Superbike che stiamo tanto aspettando. In Superbike si ricomincia un po' da zero perché cambiano le ruote, quindi cambiano le gomme, cambia un pochettino tutto, però senz'altro l'esperienza che abbiamo fatto quest'anno ci aiuterà nel futuro per capire le direzioni giuste da prendere e evitare strade sbagliate. Speriamo di essere veloci e competitivi, poi sarà un campionato difficile con tanti piloti vicini sempre e sempre di più, quindi ogni gara sarà una battaglia. Mi trovo a guidare una moto praticamente la più forte, la migliore, sviluppata in un anno, una stagione ha vinto 9 gare su 10 e quindi dovrò solo concentrarmi a dare il massimo per appunto portarla su un gradino più alto. In questo modo arriviamo alla fine della puntata numero 3 di Motor News, non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e sarà alla prossima settimana sempre in questa rete e a questo orario con Valentina Carugno e con Marcello Fredino. Arrivederci.